Neike Rivelli, buonasera e benvenuta. Neike, buonasera, grazie. Che beva si sente? Io mi sento un cinghiale. Cinghiale perché? Perché sono molto protettiva dei miei, perché sono docile, però se mi disturbi molto mi divento aggressiva anch'io. A Roma è in buona compagnia, siamo pieni. Folle, squilibrata, sopra le righe, pazza. Il ritratto è di Costantino della Ghirardesca. Si offende oppure un po' ci si riconosce? Mi si riconosco. In cosa soprattutto? Tutto, tutte le cose. Fai Costantino lo adoro, quindi lo trovo un complimento, mi conosce. Ci ha messo tanto a scegliere gli orecchini per venire qui? No, assolutamente. Ho scelto il seno perché me l'ha dato un artista armena e per me rappresenta le donne dell'Est, che in questo momento hanno bisogno di sostegno. Poi ho pensato, cavolo, donna, donna, che gli uomini vanno sostenuti, scusa, mica solo le donne. Ha fatto bene. Senta, ma l'annosa domanda ci fa o c'è? Lei come risponderebbe? Dipende dalla questione. Su certe cose ci faccio, su altre ci sono. Una volta ha detto, sono tutto fumo e niente arrosto. Che delusione. No, nel senso che da quello che appare spesso anche nei miei social sono molto più provocante di quello che poi sono nella mia vita reale. Cioè io faccio una vita molto semplice in realtà. In campagna con il mio compagno da cinque anni andiamo a dormire alle otto e mezzo, ci svegliamo presto. Quindi alla fine sembra forse che sono molto più movimentata di quello che in realtà sono. Ad Alberto Dandolo ha detto, io sono una nudista naturista, ma non sono una zoccola. Sempre meglio precisare. Beh, perché spesso uno pensa che il nudismo vuol dire che il fatto che a me piace stare nuda, ma non mi piace. Cioè, per esempio oggi mi sono vestita. Beh, diciamo. Diciamo. Sì, beh, dai, vedi, loro non si sono accorti di niente. Però ama mostrarsi. Ha detto, io in rete posso anche foto di me vestita, di me in situazioni ordinarie, e se poi la gente si sofferma sul mio culo non ci posso far nulla. E se la gente clicca e guarda vorrà dire che sto messa bene. Bisogna anche vedere quando le ho dette queste cose perché poi non matura. Beh, spesso mi viene solo marcatta. Sto messa bene, lei dice sto messa bene. Cioè nel senso che mi piace spogliarmi, mi piace anche farmi vedere perché io lavoro molto sul mio corpo, faccio tanto sport e quindi mi trovo comoda. Mentre prima da giovane ero piena di complessi, oggi non ce li ho più. E quindi mi piace anche questo perché, why not? Che voto si dà? Si piace che voto si dà? No, mi piaccio, mi do il 10, ma perché mi piaccio, non perché sono perfetta assolutamente. Certo. Ok. Lei dice, sento di avere un gran cervello, però mi sono accorta che su Instagram il culo non so perché piace. E piace tanto. Quindi quando collego il mio messaggio al culo sono certa che tutti lo vedranno. Purtroppo non interessa solo il messaggio intellettuale. Cioè lei dice, è questione di mercato, se va in quella direzione. Beh, io ho scoperto che quando è più sexy il posto, comunque c'è un décolleté, cioè ci si soffermano più persone. Quindi l'ho trovato in passato molto, adesso meno, un mezzo per comunicare. Lei comunque esclude totalmente l'esibizionismo, cioè non è questione di esibizionismo, un po' sì, un po' esibizionista è. Io penso che ogni donna un po' che si piace, si piace anche farsi vedere, ma io cresco anche in un mondo di artisti. Ah beh, lei si fa vedere tanto nel senso, no? Sì, e di fotografi. Quindi io amo la fotografia e amo esibirmi con le foto. Sì. Sia con professionisti che da sola. Mi diverte, mi piace. Come mi piace guardarle. Un'oltre sua madre è stata operata al gomito, era in ospedale e lei ha sentito il bisogno di fotografarla in desabili e ha detto non potevo non rubare questo scatto, ma soprattutto non potevo non postarlo. Perché non poteva non postarlo? Non basta lei in famiglia, diciamo. Pure sua madre si deve nudare. No, mi diverte. Questi ultimi anni anche ho fatto dei posti importanti a mamma che poi lei non riposta. Strano. No, perché si vergogna. Strano. Perché la becco in certi momenti che per me sono pazzeschi, che raccontano una verità. Eh. Che non è quella che vedono tutti, che vedo della diva o della star o della donna, capito, perfetta, di vita o anche di intimità. E lei un po' decide per sua madre però? No, io chiedo sempre il permesso. Poi lo capisco da come mi dice di no. Se è un no vero, non lo faccio. Se è un no indeciso, gliel'ho già postato. Lei appunto è figlia di Ornella Muti che ha raccontato proprio qui a Belve che lei da piccolo diceva sempre mamma, fai la magia e mi dai gli occhi come i tuoi e sua madre ci disse ogni volta è un dolore. E per lei invece com'è stato? Ovunque andavo mi dicevano oh, che peccato, è bella come la mamma ma non ha gli occhi chiari. E questo da ragazza mi ha urtato molto. Anche fatto dei provini dove sono andata e mi diceva ma tu non hai gli occhi chiari. E no. Poi mi sono innamorata di lei, di lei stessa? No, di mio figlio che ha gli occhi scuri. Ci sono tante donne stupende ma quando mia mamma entra in una stanza tutti smettono di parlare come se arrivasse una regina che effettivamente lei è stata considerata la donna più bella del mondo. Quindi comunque è difficile farci conti. Non lo so, io ci sono cresciuta. Però mamma comunque oggi quando entra porta anche tutto il suo percorso e ha un'energia fortissima e le persone spesso gravitano verso di lei. È sempre stata una cosa bella cioè fa parte di lei non l'ho mai invidiata questa cosa. Non l'ha mai messa in crisi questo voglio dire? Comunque non è facile, no? Non lo so, io quello avevo. Cioè non ho paragoni. Con quello si è confrontata, dice lei. Sì, sì. In un'intervista lei ha raccontato che molti uomini ci provano con lei per arrivare a sua madre e che altri invece ci hanno proprio provato con entrambe. Ma com'era la dinamica? Eh, non è bello. Sai, se graviti in questo mondo e in questo ambiente magari ti metti con un compagno che fa la gente o che fa qualcosa poi ho scoperto che in realtà l'interesse era di arrivare a mia madre e non di stare con me.